Ciao a tutti, sono Enzo della Sani Moreno, Volkswagen Audi Fucecchio. Oggi vi presentiamo l'ultima arrivata del segmento Volkswagen. Si tratta in particolare di questa nuova Golf 8. È in questo caso una versione particolare perché è la versione relativa al cinquantesimo anniversario di Golf. Vediamo qua la targhetta identificativa. Diamo anche un'occhiata alla carrozzeria esterna. Eccola qua. In questo caso la vettura è una E-Hydrid con una potenza complessiva di 204 cavalli. Vettura veramente bella e performante. Tanti tanti accessori su questa Volkswagen Golf 8, nuova Golf. Vedete qui la ricarica per l'elettrico. Eccola qua. Quindi motore sia elettrico che benzina. Nota particolare di questa Volkswagen nuova Golf 8. I fari IQ Lite versione Performance. Tra l'altro abbiamo anche il suo logo Volkswagen illuminato. La sua bandina trasversale sempre illuminata a LED. Molto molto bella e grintosa. Facciamo una panoramica anche dell'allestimento interno. Eccolo qua. Guardate che spettacolo questi sedili. Con la sua seduta avvolgente. Così come lo schienale. Rivestimento misto tessuto e alcantara. Veramente tanto comfort e sportività. Il suo quadro centrale, vedete, di ampie dimensioni. Tutto in pronta visione. Il suo cambio automatico, in questo caso. Lettura veramente molto molto ricca di accessori. Volante multifunzione con paddle anche al volante. Per inserire e scalare le marce. E il suo quadro centrale, come sempre, luminoso e brillante. Vi aspettiamo quindi sabato 28 settembre. Presso la nostra sede di Fucecchio, via Carducci 90. Per potervi illustrare al meglio tutte le caratteristiche della vettura stessa. E perché no, fare anche un preventivo gratuito. Grazie per l'attenzione. A presto.